Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. A voi veniamo, nostri padri antichi, come figli, discepoli e amici, per apprendere da voi, immagini vive di Cristo. Come si ami Dio sopra ogni cosa, e per i fratelli si spenda la vita. Come il perdona vinca l'offesa, e con il bene si ricambi il male. Come al bisognoso si tenda la mano, dell'afflitto si lenisca la pena, il cuore si apra all'amico. Come insieme ricostruisca la casa, e nella dimora paterna si viva. Un cuor solo e un'anima sola. Ci accompagni, padri nostri, il vostro esempio di comunione fraterna, e di servizio a Santa Maria. E ci sostenga la vostra intercessione. E la materna protezione di nostra Signora. Oggi e in ogni tempo della nostra vita. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Santi sette fondatori dell'Ordine dei Servi della Beata Vergine Maria. Pregate per noi.